Basta! Ogni anno che avemo due morti ammassati! Non ci basta qui con due bimbi e un assassino al giro. No, 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 qui bisogna trovare una soluzione, ecco. Idea? Lo faccio mio, sindaco. Cosa? Per il bene di Pinetta e del pianeta... Per nessuno vive, non lo votate, io sono pazzo. Io informalmente glielo affido. Grazie, perché mi ci voleva proprio un'altra bella sfida. Un'altra bella? Sfida. La sfida? Io ho fatto scappare l'assassino. Sì, e che hai tirato la dentiera dietro? Non sapevo. Ho provato nulla? Negativo. Zero e porto zero. Che ti pareva? E allora chi sei stato, eh? Ma unissipone fa l'autopsicolo. L'autopsia? Brava. Al cane? Brava. Let's go! Ho capito, Beppe, ma non stai partorendo te. Comunque, con quella pancia potrebbe abbranchersi. Bellissimo, no? Queste bollicine aumentano di giorno in giorno. È soltanto una piccola crisi del rigetto. Che capivo che sei il padre e sommatiza. Semplicemente sperava di meglio. È chiaro o no? Che questi sono criminali. Facciamo sta schiacci. Tu vuoi degli sparroti? Tutto è bene, quel che finisce bene. Queste mattonelle sono identiche a quella che ha sfondato la finestra di casa mia. E anche... E anche... A quella che ha rotto la luce delle scale di casa della vittima. E anche... No, basta così, Cioni. Mai più che sufficiente.